Manifestiamo per il futuro e dell'ecologia Cosa sono i cambiamenti climatici? Non mi faccia queste domande E vabbè A causa dello spread di tutte le emissioni del gas aera Senti, ma il buco dell'ozono invece che cos'è? Il buco dell'ozono? Semplicemente abbiamo danneggiato lo stato di ozono Ma perché un'interazione scolastica? Io ho quattro e mezzo in scienze Comunque Fa una figura Sta in aria Ed è tipo Che si crea nell'atmosfera, mi sa Ciao Scusi Siamo qua oggi Per manifestare contro l'ambiente E il buco dell'ozono che cos'è? E' una bella domanda anche questa Senti, cosa sono i cambiamenti climatici? I cambiamenti climatici nel senso che il clima si sta cambiando e quindi non ci sono più le mezze stagioni Cambiamenti climatici nel senso di cambio di stagioni oppure proprio cambiamenti climatici ovvero dovuti all'inquinamento E il buco dell'azienda E il buco dell'ozono invece che cos'è? Mi ha preso un po', mi ha preso un po' alla sprovvista diciamo Il buco dell'ozono che cos'è? Su questo mi rendo impreparato Cosa sono i cambiamenti climatici? Sono delle cose che avvengono quotidianamente e noi siamo qua per lottare, insomma per manifestare Parola a lei Magari il diminuimento dei... come si chiama? Non conosco bene la parola Meno macchine in giro diciamo, le missioni Senti, il buco dell'ozono cos'è? Mi trovi impreparata, però è così brutta E' una parola brutta insomma, no? Di certo non fa bene all'ambiente e tutto il resto insomma Anche come la grande piattaforma di sporcizia che hanno trovato grande quanto l'Australia Insomma è un grande problema Quindi perché siamo qua oggi? Perché mi stavo facendo una passeggiata con questa bella giornata fuori imperiali con i miei amici Ok Non sono qui per protestare Però, i cambiamenti Guardate? Sì Voi anche guardate, no? No, 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 siamo qui Cosa sono i cambiamenti climatici? Eh, i cambiamenti climatici sono cambiamenti diciamo alla natura della terra Eh, il buco dell'ozono adesso precisamente in maniera tecnica non lo so Però so che c'è un buco tipo nell'atmosfera causato da dei gas Insomma Ehm, aiutami Cosa sono i cambiamenti climatici? Allora Posso andare da loro? E il buco dell'ozono, cos'è? La prego Bye 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 Grazie a tutti.